A bordo di un'auto rubata hanno seminato il panico lungo la strada statale 16 per sfuggire alla cattura delle forze dell'ordine. Si è concluso con due persone arrestate, un lungo inseguimento tra carabinieri della compagnia di Molfetta e tre malviventi intercettati nel territorio di Biceglie dopo aver rubato una vettura, una Fiat 500, nei pressi di Palese. Si tratta di due baresi poco più che ventenni finiti in manette con le accuse di furto, ricettazione, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Dopo una corsa durata decine di chilometri i ladri hanno abbandonato il veicolo all'altezza di Santo Spirito tentando la fuga a piedi nelle campagne circostanti. Uno sforzo inutile visto che due di loro sono stati raggiunti, bloccati ed infine tratti in arresto dei militari dopo una breve colluttazione. Nell'occasione un vicebrigadiere del nucleo radiomobile di Molfetta ha riportato diverse contusioni ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici. I due banditi sono stati invece trasferiti nel carcere di Trani su disposizione della procura locale. Nell'auto sottoposta a sequestro sono state rinvenute diverse lattine di olio, strumenti di effrazione e due trapani rubati da un garage di Biceglie il cui proprietario non aveva ancora scoperto il furto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare il terzo complice.